Buongiorno a tutti. 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 Siamo sperando dai! Sempre a colto! Siamo in giocato! No! Non ce ne ho mai! Siamo in giocato! Siamo in giocato! No! Siamo in giocato! No! 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 Vai! Dai! Vai! No! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti.